Oltre 15 chili di hashish, 12 arresti, quasi tutti in flagranza di reato. Questi i risultati dell'operazione Elefam, portata a termine in questi giorni dai carabinieri di Cuneo. Un successo non solo per il quantitativo sequestrato, ma per il patrimonio conoscitivo acquisito dai militari, che comprende numerosi altri reati e la scoperta dei canali di approvvigionamento della droga stessa. Siamo giunti frequentando la piazza, quindi con controlli che si sono riveduti nel tempo e con specifiche attività di indagine su gruppi di ragazzi che sembravano i responsabili spacciatori di stupefacenti sulla piazza di Cuneo. Elefante è il simbolo inciso su ciascun panetto, ma l'operazione, come hanno ribadito i militari, si sarebbe potuto anche chiamare perseveranza, vista la continuità e la costanza con cui le indagini sono state condotte dal 2010 ad oggi. Tra gli arrestati diversi minorenni, che possedevano già una mentalità propria di criminalità più evoluta e si sono macchiati anche di altri reati. Una parte di questi ragazzi si dedicavano pure a rapine. Ne vengono contestate due, una a un supermercato e una ad una prostituta. E quindi c'era anche questo metodo per approvvigionarsi dei soldi che evidentemente in parte, o almeno in parte, finivano poi nel portare avanti il traffico di stupefacenti. I 15 chili sono stati trovati nella casa di un'insospettabile badante marocchina di 41 anni che vive nel centro storico del capoluogo. In coppia con il cognato operaio 48enne deteneva lo stupefacente sotto il letto all'interno di una comunissima borsa che ha tentato in vano di nascondere, gettandola dalla finestra all'arrivo dei militari. Siamo risaliti già ad un livello che potrei dire medio-alto di trafficanti. È chiaro che comunque le attività sono ancora in corso.